Qui ti danno tutto, di conseguenza va bene così, finché dura. Lei ha lavorato con Streller, è stato diretto da Streller. Che ricordi ha di Streller? Streller era un uomo straordinario, accusato da quattro cretini perché aveva dei vizietti, che sappiamo tutti, non era un drogato. Era uno che ogni tanto tirava due tiri di coca. Però questo non gli ha impedito di essere il più grande regista della sua epoca. Io l'ho indicato 40 anni con Giorgio, ma io ho un carteggio con Streller che tengo conservato perché è scritto a penna. E quando due si scrivono a penna è perché hanno qualcosa da dirsi. Lo so che sono stato rimproverato, lo difendi sempre. E qui lui ha torto. E io candidamente è cretino. Se ha ragione è perché devo difenderlo. Difendere un amico quando ha ragione è talmente troppo facile. Io lo difendo perché ha torto. Era un uomo duro però. Non è vero niente. Era un uomo talmente duro che la notte di Natale, la vigilia di Natale quando noi siamo andati a dormire è stato su fino alle 5 per prepararci l'albero per il giorno dopo con il vostro torturatore. Ma no, era un uomo solo. E oserei dire che non è stato neanche molto amato da tutte le donne che ha avuto. Io credo, poi dopo lei quando lo sentirà si commoverà, ma l'unica donna che l'abbia veramente amato è stato Valentina Cortese. Lei. Perché lui non ha amato nessuno. Lui ha amato solo il teatro. E basta. Vede un successore? Suo no. È irrepetibile quello che... Io direi che quando avremmo finito noi i quattro vecchiacci che sono rimasti, i copioni di Giorgio è meglio stracciarli. Perché non capisco chi li possa fare. Oggi si va avanti così. Buonasera. Non faccio nomi, per l'amor di Dio, perché... Altrimenti dicono, ma sei sempre cattivo con noi. Cosa volete che vi prenda? A calci. Non posso. Siete in tanti. Potrei farlo uno per volta, ma è lunga. Quanti anni di teatro ha le spalle? Sessantacinque adoperando la matematica, perché ho cominciato a pagare... Sua mamma era attrice, giusto? Anche suo papà. Mio papà era siciliano e la mia mamma era milanese. Mio papà era un attore di Musco. Musco. Sì, lui, Musco però. Mio padre era di bagheria. Voi pensate che Angelo Musco, il più grande talento di questi ultimi 500 anni, ha imparato a leggere e a scrivere a 56 anni. Ma Pierandello gli aveva già dedicato tre commedie. Si capisce? La cultura è quella roba lì. La forza espressiva dalle sue mani. La maniera di guardare. Non si guardano più queste cose. Non c'è più nessuno che dice... La dose disse... Ma perché non ti tingi? Il pubblico verrà per vedere i miei capelli bianchi e per sentire la mia arte. Ma loro potevano dirlo. Di queste quattro sciacquette cosa volete che ci si ricordi? Il culo? Ma è troppo facile, gente. Quanta forza le dà il teatro? Io non so fare altro nella mia vita. Io so fare solo il teatro. Io non so cambiare una lampadina. Io non so leggere i messaggini sulle... Quando è pieno lo do ai miei figli, scaricatemelo. Non mi interessa. Il teatro è pieno di cose. Io vivo in mezzo ai miei libri, ai miei ricordi che ad agio ad agio cerco di portare in cantina perché mi fanno girare le scatole. Quando mi vedo giovane, bello non lo sono mai stato, ma giovane sì. Mi vedo, non so, truccato da Don Giovanni. Mi viene in mente che alla prima, da quell'incosciente che ero, saltavo giù dal primo piano. E poi la prima tricci mi dice Don Giovanni perché siete così bello? E io per giocare, incosciente alla prima, gli ho detto non farmi ridere che mi si staccano i baffi. Ho sempre fatto questa vita qua, ho sempre stato un ragazzaccio. Poi ho diventato un fecchiaccio e mi piace così, mi va bene. Senta, la nostalgia del Milano di quando lei era ragazzo, c'è ancora qualcosa di Milano oggi che la fa sentire a Milano? O secondo lei non è più la Milano di una volta? Beh, non c'è un mica molto per dirlo. Cosa è cambiato? Tutto, cominciando dalla gente. Lei deve sapere che sotto il primo ponte, sa che Milano ha due navegli, no? Ecco. C'era una gora dove noi andavamo a bere l'acqua. La gora è quella che noi chiamiamo in milanese i giramolin. Dicevamo ai ragazzini, non andate lì, mi prendete le gambe e mi tira sotto. Noi bevevamo quell'acqua lì, non abbiamo mai avuto il tifo. Mai! Vado a vedere che cosa è diventato il naviglio. La gente è una conseguenza. Ma lei sa che i milanesi non conoscono la loro storia. Ma forse anche gli italiani in generale non conoscono la loro storia. La storia dell'italiano è vasta. C'è questi romantici avventurieri, questi mille che poi... Ma Milano davanti alla storia è piccola. Voi pensate che a Milano si parlava di Devolation. Nel 48. Stavano facendo l'Italia. Quel romantico avventuriero di Garibaldi. Mazzini da una parte e Cavour dall'altra. E a Milano c'erano i Ducarle che litigavano. Il cattagno federalista e il tenca unitario. Si parlava già di Devolation. E non è mai successo niente. Ma quando il popolo si è rotto le palle, in cinque giorni ha mandato via il più potente esercito d'Europa. Ecco perché lei non c'era prima. Ecco perché aveva ragione Platone. Bisogna avere paura della collera dei buoni. Dice hanno bruciato 30 macchine. Hanno saltato per aria. Lo so che è bruttissimo. Vedere dei bambini che muoiono innocentemente. Delle mamme che le portavano a scuola che saltano per aria. Anche loro. È bruttissimo. Ma questo bruttissimo è stato originato dagli altri. Non credo che siano felici le mamme di dire domani nel porto a scuola cosa succederà. Ma la colpa è dei padroni del mondo. I campi di Medellin potrebbero coltivare l'insalata, ma non renderebbe quello che rende. Il mondo in mano alla droga e al petrolio. Quindi... Perché nel nostro erdo, nella gesa di vecchia, nella casa di Milano è tutta marmo, le grandi, le belle. Le due malute del mondo è così belle e così grande. Per capire bisogna vestire su, sotto a santa pecula, bisogna cominciare a piscinire, guarda su a quei statu, a quei ghiuli, a quei finestroni antichi, negher, maestosi dove il su e il giugas scundes. La scrivevano anche sui muri, erano le vode, che dovevano costirare un coma, e sui muri scrivevano viva verbi, per dire viva Vittorini Emanuele 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 Emanuele.